Sì, ha laudato San Francesco, quel che apparve in croce fisso, come lo Redentore. All'Averna, al Monte Santo, stava il Santo in gran pianto, il qual pianto gli muta in canto il Serapì Consolatore. Sì, ha laudato San Francesco, quel che apparve in croce fisso, come lo Redentore. Laudato San Francesco Sì, ha 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 laudato San Francesco